Obiettivi? Voglio trasformare il grasso in muscolo Ma te conviene far il contrario? Cioè mettite meno Dicevamo? Ok, cominciamo, sì Prendi la Skippy Row Là? Hai presente lo Psoas? Eh no, vabbè, ma io ho fatto la tecnica industriale Quella che dici da è quella che stava dai fronti Che stava piena dei fronti, vabbè insomma, hai capito? No, lo Psoas, il muscolo Se non lo alleni bene, si infiamma Ah, sì, sì, ho capito, ho capito La Skippy Row La Skippy Row La corda per saltare Ah È di corda, no? Plank, star jump o crunch? Ah, io sta roba alternativa non la conosco Mettimene una di qui, che mi fomenta una cifra Oh mamma mia, mamma mia Mamma mia, let me go Ok, la World Ball È fine, thank you La World Ball, la palla medica Ah, è di palla, no? Sono deciso tra pull-ups o chin-ups Ah, io uno spritz, grazie No, ma intendevo prona o stupina Ma pure tu patatine, tu noccioline, un tramezzino scalato a mezzi Non si fanno grossi problemi, dai Mamma mia Per oggi ho proprio dato, eh Senti, scusa Adesso posso fare la shower with soap? Eh? Ah, doccia con sapone, ammazza, però Ma che basi, bionda, svegliate, no? Vitto Sì, 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 arrivo Comunque ci sei, eh? Dici Il potenziale c'è tutto E che potenziale? Eh? Potenziale è il basso gluteo Vitto Sì, sì, arrivo, un attimo Sei lì Io ci ho provato a fare questi esercizi Ma mi sento dietro una puncicata Tipo un ago Mi sa che c'è una punta ternia È lombare Eh, le pare Forza, forza, tieni Non mollare Non mollare adesso, vai Gonfia il petto Gonfia il petto Gonfia il petto Scusa, scarica, scarica D'odio Eh, ti ho detto che arrivo, arrivo Aiuto Aiuto Ma che facciamo? Interveniamo? No, no, io la devi fare da solo Ma che, sei matto? Non mi potei chiamare Mortacito No, mi senti, oggi vorrei snelli Buonasera Come ti dicevo Voglio snellire, rassodare Questa parte qui Eh, bisogna fare un esercizio più complessivo Per lavorare sull'interare Quadricipide? No, 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 no Solo questo pezzettino qui Ho visto su YouTube che se può fare? 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 Maschio 20 anni Sotto shock Cos'è successo? Stellina, mi devi perdonare Pure questo niente Su il menisco che mi friziona Mettecelo io! Ok, allora lo cambiamo con qualche serie di squat Andiamo a lavorare sui quadricipidi Ah, i quadri tipici Mannaggia Ma non è che me li puoi ricambiare Perché se no mi si strappa Muscolo Ma che hai capito? E' il pantalone Mi muoio e me li cucio le merda Presta la tua E' un drago Ammazza Ragazzi complimenti State facendo un lavorone Vero eh? Eh? Si Chi l'avrebbe mai detto? Vado a fare la voce ragazzi Ciao Ciao Sanato? Si, si No, mani